Succede di tutto al comunale Pavone Mariani tra Pineto e Matese. Finisce 2-2 con tre espulsioni e due gol nei minuti di recupero. Uno per parte. Gli ospiti, freschi di cambio in panchina con il ritorno di Corrado Urbano al posto di Perrotti, partono aggressivi, ma la prima occasione è del Pineto con Maio, la cui conclusione termina però sopra la traversa. Primo momento di svolta nel match al trentacinquesimo. Esposito, fede il migliore dei suoi, guadagna e trasforma con un cucchiaio a un calcio di rigore. La sua esultanza provocatoria accende un parapiglia che porta all'espulsione dello stesso esposito, appena dopo quella di Geccacci per doppia munizione dall'altra parte. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 e in 10 contro 10. Nella ripresa il Matese sembra controllare il risultato, ma all'improvviso una botta da fuori area di Maio regala il pareggio alla squadra di Amaolo. Salgono quindi incatte tra i due portieri. Prima Simone Mercorelli dei padroni di casa, poi Francesco Governali per gli ospiti, salvano il risultato con due interventi miracolosi che valgono come dei gol. Il Pineto spinge, ma non punge, fino al primo minuto di recupero, quando l'incornata vincente del neoentrato Moussa Giajambè, che concretizza l'ennesimo calcio d'angolo abbattuto da Rosicco, regala il vantaggio ai Biancazzurri. Sembra finita, ma all'ultimo respiro sugli sviluppi di un calcio di punizione, un fallo di mano di Nicolas Di Filippo porta al secondo giallo anche per il capitano Biancazzurro e al calcio di rigore per gli ospiti. Napoletano al 96esimo lo trasforma, fissa il punteggio sul 2-2 e regala il primo punto stagionale al Matese. Un pareggio tutto sommato meritato, ma che lascia al Pineto tanti rimpianti.